Bene, volevo farvi vedere un esempio di creazione di un evento in Altspace VR e la possibilità che abbiamo di inserire delle diapositive quindi creiamo un evento per il momento e prendiamo Presentation Presentation, questo chiamiamo Test Presentazione e qui mettiamo una descrizione l'evento non è pubblico e lo facciamo adesso e la cosa interessante è scegliere la presentazione quindi la presentazione facciamola su quella classica che è la prima che ho visto in Altspace e vedete che tra l'altro tra l'una e l'altra cambia anche il numero di persone comunque c'è questa lavagna che spiegheremo adesso come si usa quindi andiamo dentro e facciamo un bel Enter Now quindi abbiamo fatto un evento mettiamo Fullscreen e in questo evento ci troviamo in una stanza tutta nostra privato quindi presumibilmente non dovrebbe arrivare nessuno e in questa stanza abbiamo sostanzialmente come vedete adesso andiamo qua, abbiamo questo posto allora questo quadro qua che vedete innanzitutto ci manda su un punto interrogativo che se clicchiamo ci dice di andare su altvr.com slides perfetto allora vado su altvr.com slides quindi seguo ciò che mi si dice slides e qui abbiamo una guida using slides.com for presentation in Altspace VR quindi cosa dice? Dice sostanzialmente di andare in slides.com slides.com qui ho già, mi sono già registrato ho già fatto un evento e qui voglio fare un new deck new deck quindi costruisco delle diapositive ora qui ci giocate voi non è molto importante l'importante è che facciamo almeno due diapositive quindi come facciamo? facciamo diapositiva 1 e poi qui facciamo un più e facciamo un'altra diapositiva questa diapositiva 2 diapositiva 2 fatta così come vediamo adesso tanto l'importante è vedere come proiettare questa diapositiva una volta fatta questa diapositiva noi andiamo nella presentazione e la presentazione vedete che c'è una diapositiva 1 e una diapositiva 2 poi potete farne tante quante ne volete ma noi in questa presentazione andremo a vedere il live present live vedete che qui c'è un link present live lo copio copio e poi vado qui dentro da me e qui cosa succede? vedete che qui abbiamo un bel simbolo e in questo simbolo possiamo mettere l'indirizzo il live che abbiamo preso dal sito se facciamo così lui mi fa vedere esattamente ciò che sta facendo vedere il sito quindi adesso vediamo un po' se ce la facciamo mettiamo qua a destra il alt space e a sinistra la mia presentazione e vedrete cosa succede cioè praticamente tutti quelli che vedono questa cosa possono dunque qui larghiamolo un pochino ok quindi se facciamo così torniamo alla prima diapositiva vedete che è cambiata e facendo così andiamo sulla seconda diapositiva quindi di fatto noi possiamo lavorare con questa con questa cosa in più la cosa che abbiamo visto durante il primo incontro è che abbiamo a disposizione qui da qualche parte ce l'abbiamo qui dentro eccolo qua abbiamo il laser il laser lo prendiamo e inoltre l'abbiamo preso possiamo usare il laser per ecco vedete che punta ero riuscito a usarlo anche con il desktop comunque quell'as ah no devo prenderlo ecco vedete che adesso posso no ecco il desktop è un po' impegnativo comunque posso usarlo per ecco vedete posso puntare sulla diapositiva quindi dire guardate sto parlando diapositiva 2 title text e quindi man mano che io faccio la mia presentazione posso usare il laser per puntare a una precisa cosa quindi io direi che qui non c'è molto di complicato la cosa più complicata è di gestire e ricordarsi l'indirizzo quindi fare la fare la apposita trovare il punto da cui copiare l'unica cosa è che alcuni hanno segnalato che queste diapositive non si vedono su Windows 7 quindi credo che siano supportate solo su Windows 10 e tenete conto che mentre state facendo questo mestiere potete comunque sempre cambiare qui e mettere un sito qualunque quindi potete anche mettere youtube.com e e vedervi uno schermo la cosa che potrebbe non essere chiarissima è che mentre io vedo questo video non è vero non è detto non è detto che questo lo vedono tutti gli altri quindi fate magari un po' di esperimenti prendete un amico una persona e fate un esperimento di presentazione prima di fare la vostra presentazione in modo tale da avere il massimo risultato non trovatevi mai a fare la presentazione senza avere provato e questo direi è tutto per questo grazie a tutti